ciao pietro io sono giovanni di marco del giornale sicilia intanto ben trovato e benvenuto grazie volevo chiederti innanzitutto com'è andata diciamo col venezia perché abbiamo letto che hai rescisso si è arrivata a parametro zero così ci dici la tua e chiariamo la situazione e poi ti chiedo un'altra cosa che ha a che fare col tuo ruolo vabbè niente di così particolare il venezia aveva espresso diciamo il desiderio di lasciarmi andare via e io ho avuto fin da subito questa opportunità di venire qui a palermo avevo parlato col direttore è stata la mia prima scelta non vedevo l'ora di poter firmare niente quindi mi sono liberato a zero e subito firmato qui con col palermo il fatto che tu ti sia liberato a zero anche se poi hai firmato un contratto della stessa lunghezza testimoni insomma la tua voglia il tuo entusiasmo di sposare questo progetto sbaglio si si no da subito quando c'è stata l'opportunità che il direttore mi ha chiamato sono stato subito veramente contento entusiasta di iniziare questa questa avventura e il fatto di aver firmato anche tanti anni mi riempie veramente di orgoglio il ruolo dicevo abbiamo visto che il mister sta provando a tre a quattro volevo capire un attimino se hai preferenze e poi ti chiedo anche il fatto diciamo l'esterno sinistro l'hai fatto in determinate situazioni mi pare di capire se è stato impiegato anche lì o no proprio a quattro cioè da terzino beh diciamo che il mister sta provando varie varie cose varie moduli e vari metodi di impostazioni non ho una preferenza mi piace sia giocare a quattro che a tre sì il terzino l'ho fatto diciamo l'anno soprattutto in B con Dionisi a Venezia mi sono trovato bene magari ho diverse caratteristiche rispetto ad Aurelio che c'è in questo momento sono un giocatore un po' più difensivo però dove il mister deciderà se deciderà di schierarmi sono a disposizione che gruppo sta nascendo ti chiedo per chiudere che impressioni hai dopo pochi giorni il fatto che i nuovi siete qui dal primo giorno mi pare che sia una cosa molto importante sì penso sia veramente importante lavorare fin da subito creare un gruppo importante sinceramente sono arrivato e non mi sono mai sentito così a casa come in questo gruppo cioè veramente dei ragazzi bravissimi fuori dal campo mi sto trovando davvero davvero molto bene niente speriamo di continuare così e di formare un bel gruppo che è quello che può servire per per fare un'ottima stagione ciao Roberto Parisi stati news ti volevo chiedere quali possono essere le ambizioni di questa squadra che sta nascendo tu quella vivi dall'interno e poi una seconda domanda in allenamento spesso sei schierato insieme a Luciano in coppia ti volevo chiedere che tipo di giocatore è come ti stai trovando grazie l'ambizione sicuramente importante quella di una società seria solida che è un progetto veramente importante ma non possiamo dirlo adesso dove dove potremmo arrivare dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per per cercare di di ottenere il meglio da noi stessi dalla squadra per quanto riguarda Lucioni un giocatore di esperienza un giocatore molto forte che ha dimostrato in questa categoria di essere tra i migliori sempre giocare con lui sicuramente rende tutto più facile ti aiuta ti parla ti ti dà una mano in qualsiasi momento io l'ho conosciuto ai tempi dello spezia quando ero un ragazzino già lì lui era era giovane ma si vedeva che che era un leader e adesso ancora di più è una persona che dà una mano a tutti durante durante gli allenamenti e anche fuori quindi penso sia una figura importante per questa squadra buon pomeriggio pietro forzapalermo.it ma per di merito tutto il mondo volevo chiederti parlavamo di Lucioni questo è sicuramente un reparto difensivo di valore perché oltre a te e Lucioni ci sono anche nel Cearo Marconi altri elementi che possono essere anche adattati quindi ti volevo chiedere come si gestisce la concorrenza da nuovo arrivato grazie sicuramente la concorrenza deve essere un fattore positivo perché il livello degli allenamenti si alza e me ne sono accorto da subito appena sono arrivato le gli allenamenti le partitelle sono sempre molto molto equilibrate c'è tanta intensità e tutti cercano di dimostrare poi all'allenatore di poterci stare di poter meritare un posto da titolare e credo che sia un fatto positivo quando l'ambizione è quella di provare ad arrivare in alto è fondamentale averci tutti i giocatori pronti che ci sia una sana rivalità tra di noi chi giocherà scenderà in campo perché lo merita e gli altri dovranno essere pronti a subentrare comunque a dare una mano sempre Ciao Pietro, Nicolò Cilluffo Medical intanto benvenuto intanto ti chiedo che tipo di rapporto stai ristaurando con Corini se avete dialogato insomma nel corso di questi primi giorni di ritiro e poi da difensore che impressioni ti ha fatto Matteo Brunori in questi primi giorni appunto di esperienza qui in Rosa Nero grazie Con il mister abbiamo parlato non più di tanto nel senso che siamo messi subito a lavorare alla fine penso che sia la cosa migliore piano piano ci conosceremo meglio abbiamo appena iniziato però le sensazioni sono tutte positive per quanto riguarda Matteo è un giocatore che ha dimostrato il suo valore ti volevo chiedere della prima di campionato invece subito una sfida molto molto affascinante non so se è corretto dire scontro diretto perché poi abbiamo visto anche l'anno scorso insomma come è andata da alcune delle squadre che sulla carta devono lottare per la vittoria però insomma adesso come adesso sembra così e poi abbiamo visto un video in cui insomma facevate anche così un saluto a Palermitani per l'informe di Santa Rosalia ti posso chiedere cosa ti hanno raccontato i Palermitani da che Coppa a Pasquale stesso magari visto che un giorno speciale per i Palermitani sì per quanto riguarda Santa Rosalia non sono ancora informatissimo mi hanno raccontato che è la festa più importante a Palermo quindi c'è stata l'opportunità di fare un video per tutta la città per i tifosi è stato un piacere per quanto riguarda la prima di campionato diciamo che è difficile dire adesso scontro diretto perché sappiamo l'abbiamo visto l'anno scorso in B all'inizio soprattutto è difficile dire chi potrà arrivare in alto chi magari avrà più problemi e quindi sarà una partita sicuramente bellissima davanti a uno stadio immagino pieno come potrebbe essere San Nicola e ci aspetterà una partita difficile come tutte le partite in Serie B contro una squadra forte che ha fatto la finale playoff l'anno scorso quindi ci prepariamo bene pensiamo prima alla partita con lo Spezia a finire bene la preparazione poi arriveremo pronti alla prima giornata grazie a tutti